Ciao a tutti e a tutti Benvenuti su una mod Chiamata Garcello E l'uomo non è vista L'uomo non è vista L'uomo non è vista Spero che La volete La volete Infatti l'ha fatta Ma se sapete che Il personaggio di me è un'ora carica Comunque sapete I personaggi che sono E comunque Avete detto che questa qui E' una mod triste Io non ho visto i video su Youtube Però ho cercato il link Perchè Voi non avete detto che questa mod E' tipo Infatti ho messo le punte che cresce così Perché non avete detto che La prima canzone dovrebbe anche essere un pochetto difficile PIP Come va piccolo ragazzino Il fumo Ti ha preso la tua attenzione PIPOP E' veramente figo Dovresti provarlo PIPOP Vi dico una cosa Non provate a fumare Che fa male E' difficile Fammi prendere Sei sicuro? Andiamo PIPOP Dirti cosa Se mi sconfiggi E' una rap battle PIPOP Me ne vado dalle tue scatole Me ne vado dalle tue scatole Quindi Tipo ci Ti vedi solo Fumare un pochetto Ah io ho i nerdi Vabbè questa idea Io lo ho però La canzone La canzone La canzone La canzone La canzone E' una rap battle La canzone Questa La canzone Che fa male Que fa male E' un pochetto Passa Grazie a tutti. 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 Ok, ok. Ok, ho fatto la gombo pure di Trento. Mamma mia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, no... No, no... No, no...